I vaccini di Pfizer-BioNTech sviluppano molti anticorpi e quindi funzionano contro la Covid-19. A confermarlo è uno studio scientifico fatto in Toscana su un vasto campione di cittadini residenti nei territori di Firenze, Pisa, Arezzo e Siena. Ad annunciare i risultati incoraggianti di questo studio sono stati il presidente della regione toscana Eugenio Gianni, Gian Maria Rossolini, ordinario di microbiologia dell'azienda ospedaliere universitaria di Careggi e l'assessore alla sanità Simone Bezzini. Da questo lavoro sta venendo fuori che l'immunità è molto forte e quindi il messaggio è chiaro, i vaccini funzionano. Quindi io in primo luogo stasera dirò vaccini, vaccini, vaccini. Noi ci siamo organizzati al meglio, abbiamo bisogno che lo Stato ci mandi più vaccini possibile. I toscani che hanno ricevuto la seconda dose ad oggi sono più di 75.000, mentre le dosi somministrate in totale sono oltre 240.000. Quando ci saranno dati sufficienti lo studio indagherà anche la produzione di anticorpi con i vaccini di Moderna e AstraZeneca. È importante e interessante misurare la risposta anticorpale nei confronti del vaccino e le evidenze che emergono sono certamente in favore di una alta efficacia del vaccino in tutti i soggetti vaccinati in termini di produzione di anticorpi che hanno attività nei confronti della proteina spike che è quella responsabile dell'infezione da parte del virus. Quindi sono dati molto interessanti e molto incoraggianti. Il presidente Gianni a breve firmerà un accordo con le organizzazioni di volontariato perché da marzo affianchino ASL e medici di base per somministrare i vaccini nelle aree più periferiche della Toscana.